Siamo arrivati praticamente alla conclusione, c'è ancora l'Irish Coffee, spero che qui non ci sia nessuno di striscia la notizia, che sennò mi ingabbiano. Spero che sia andato tutto bene, che vi sia piaciuto tutto. Ancora un ringraziamento al signor Gambarotta, al signor Maia, a tutti quelli che sono intervenuti, a voi che avete mangiato i miei intrugli. E adesso passeremo all'ultima portata. Dunque, istruzioni per l'uso. Vi verrà consegnato un cucchiaino, è un Irish Coffee destrutturato, quindi vuol dire che gli ingredienti sono divisi, dovete inserire tutto quanto in bocca, all'interno della vostra bocca, si scioglierà e si mischieranno i sapori. Non fa male, contrariamente a quanto dicono. Io ho le parti di Tarrana. Grazie. Bravo. Via. Già, vi conti le persone? Quanto sono? Contamini d'orio. Via. Lo facciamo. No, voglio ne prendere. E' qua, libero. E' giù il motacarico. E' cucina. E' giù il motacarico. Creo, c'eraếu. Grazie. 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 Grazie.